Tony qual è stato il percorso che ha portato a meravigliose che cosa le ha lasciato dal punto di vista personale e professionale percorso meraviglioso sembra un gioco di parole ma è così perché parte da lontano un incontro con questi bambini straordinari c'è stato proprio una cosa una specie di master class sulla scrittura io li ho stimolati li ho fatti giocare li ho messi nel mondo della fantasia ma anche delle paure che anche i bambini hanno paura di del futuro di quello che poi è andato a finire in questo bellissimo progetto abbiamo utilizzato le parole più importanti di questi bambini ho costruito insieme a marco pagassoni una canzone tutto ma proprio tutto sarà devoluto in maniera gratuita e abbiamo lavorato tutti per sentirci un po più importanti non perché è natale perché anche una goccia nel mare ogni tanto può salvare qualcosa salvare un'anima salvare un pensiero e dare luce a dei bambini che magari hanno meno possibilità di tanti altri bambini in questo momento dove nelle Marche ci sono stati dei momenti difficili e noi arriviamo da esseri umani e questo è importante un progetto quindi costruito insieme ai bambini c'è qualcosa che la stupita particolarmente del loro modo di lavorare sì sì ma proprio anche all'interno di queste parole che hanno scritto loro poi io con Marco ho costruito la melodia abbiamo arrangiato questo pezzo qui e il loro le loro visioni il loro sentire e a un certo punto ho chiesto a loro cos'è l'amore lì è stata costruita la canzone e ognuno diceva qualcosa l'amore è uno spazio tra le nuvole il sole l'amore è una mappa senza le chiavi molta fantasia sì molta fantasia e poi c'è un momento dove abbiamo giocato sul serio chiesto ai bambini ma di cosa avete paura e qualcuno diceva paura di perdere il cane paura degli abissi delle meduse dei temporali e ho paura di non realizzare i miei sogni e tutto questo è stato messo all'interno di questa canzone dove c'è una grande energia una poesia incredibile parole sull'amore e a volte anche imprevedibili ci vediamo a teatro ci vediamo a teatro ossigeno e calore è un tramonto un desiderio infinito una corda che non si spezza mai